Siamo andati al Teatro delle Palme a riprendere un gruppo interessantissimo di uomini e donne che reciteranno in giudaico romanesco. Curiosità! Per via della sera, invece di vedere la televisione a letto, andavamo tutti a due copione in mano. Bangeva notte, ma ci mancava pure questo. A pensare che l'età della mia l'ho fatta solo la prima, perché non l'ho voluto mai studiare. L'età dei nansi! I coli di Pesac. La Clescia dei Tripolini. Noi iudici siamo scordati come si mangia, come ci hanno insegnato padre per madre, ma si sono pazziti. Adesso fate moda da maniati i Tripolini, da cucina schienazitas, cucina israeliana, cucina marocchina. Comenzando da Fiemi. A essi piace, ma a me no. Arta schifenza. Solo l'odore perché a me fa schifo. Da manià buono è quello che fa madre, ma ha 18 quindivia, ha concia, o stracotto, o pollo con i peperoni. Ponte dico, pasta e broccoli e pasta e patati. E i pasta asciutti fatti in tutti i manieri. Lo sai cosa vi dico? Questa è magnacca. E io finché campo, magno come mi ha insegnato madre, ma faccio bene. le ristate si spregano. Ma ricordo l'inizio. E certo, se no perché lo faccio? Se non mi diverto. Roma è pieno di zanotto, per esempio. che io sono venuto qua in piazza perché tanto molta nostalgia. Ti ricordi come stavamo qui tempi? Che era, era tutta una famiglia. E mo invece vedi quattro che forestieri. Arda persegna. Se non vuoi dire dimmelo, se non vuoi dire dimmelo. Qualcosa del genere. Ma porca miseria. Ma è possibile che io, tutte le volte che ho terminato un piacere, io devo pure scappare. Una volta che ho tagliato un piacere io, devo pure aspettare il cacao. Ma il cacao non sta a fare, si può sapere. Un fatto miracoloso che è avvenuto durante la guerra. Nonna mi diceva pesa che pesa. Pesa tanto. E devi comprare tutto controllato. Carne, mazzotti, azima. E pure il cacao. Tutto i giorni a cucinare. E poi per sapere che non si può mangiare niente. Ero il più bel caporal maggiore del reggimento. Sì, la gardiera militare, i gradi di colonnello. Sogni. Però quando mi congedai ero caporal maggiore. Ma anche attendente del colonnello. Io sto scrivendo un articolo per le palme. Che stiamo facendo è una recita. Marisa Sonneno. Marisa Sonneno. Ma Marisa, vedi un po' la cosa. Che parte ti hanno affidato? Una parte in giudaico romanesco? Veramente è in giudaico romanesco perché è un fatto di casa. Di una cosa che... Un certo quadro che sarebbe la natura morta. Che non avevano capito niente di questa cosa. Pensavo che fosse una cosa scandalosa. Papà, devi imparare l'inglese. E si dice Facebook, non Facebook. Non facciamo tanti taburotti. Dai su, basta così. Se qualcuno che sta su in sala ci morfi schiar. Provi lui a venire sul palco a recitar. Grazie a tutti.